Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo al convegno che si è svolto a Gela sull'impegno al fine di costruire un futuro in una città che cambia dalla rassegnazione al progetto per una nuova economia sociale La grave crisi occupazionale che si registra a Gela, soprattutto in merito alla vicenda della fineria Eni è stata al centro del convegno promosso dalla diocesi di Piazza Almerina tramite l'osservatorio pastorale Focus sulla disoccupazione di Lagante e sui metodi per arginarla Tra questi c'è quella del microcredito Lo strumento di microcredito aiuta giovani o imprese che non hanno la natura della solvibilità e quindi che in teoria non sarebbero finanziabili dagli intermediari finanziari che conosciamo tutti che operano regolarmente sul mercato finanziario e pur non essendo solvibili attraverso la filosofia e gli strumenti di microcredito possono ottenere piccole somme che per loro possono significare la svolta piccole somme a tassi di interesse bassissimi Tonino Collura, esperto di pianificazione territoriale, sviluppo e fondi europei ha sottolineato come siano importanti gli strumenti comunitari per la crescita e l'occupazione Sono stati programmati più di 6 miliardi di investimenti in 4 anni in campi diversi dall'innovazione alla creazione di un'occupazione, alle infrastrutture al sistema sociale, bisogna percogliere queste opportunità e tradurli in progetti che stanno in piedi quindi creare un contesto favorevole di fiducia, di esternare fiducia per i giovani in cui queste opportunità diventano progetti e speriamo realizzazioni Al convegno di ieri, dal titolo Costruiamo il futuro in una città che cambia dalla rassegnazione al progetto per una nuova economia sociale moderato dal giornalista Domenico Russello è intervenuto anche il vicario foranio Michele Mattina Il richiamo ai microcrediti e la possibilità di accedere ai fondi europei sono diremmo strade percorribili concretamente e quindi al di là di quelle che possono essere le intenzioni, i desideri ci sono soprattutto delle possibilità concrete da avviare per cui tante persone possono avere questa possibilità di creare una piccola impresa di darsi da fare e costruire lavoro C'è la necessità di creare un nuovo clima di fiducia ma nella duplice eccezione c'è nel dare fiducia e nel meritare fiducia e in questo le istituzioni chiaramente devono necessariamente fare un passo in avanti insieme a tutta la collettività Il dirigente scolastico Grazio Di Bartolo, la cui scuola, ieri ha ospitato l'interessante convegno La scuola come agenzia formativa ha il compito di educare i giovani e di contribuire allo sviluppo del territorio, in particolare della nostra città In questo periodo di crisi è molto importante questo convegno, questo confronto fra le varie parti e perché si possa aiutare la città a svilupparsi e quindi a creare posti di lavoro E ieri era presente tra gli altri al convegno il Vescovo della Diogesi di Piazza Armerina Sua eccellenza, mattone su mattone, stiamo cercando di costruire un futuro per Gela? Se questo inizio con un forum sul tema del lavoro possa essere un mattone, sicuramente sì Noi stiamo cercando in ogni caso di stimolare le menti, le menti più belle, più intelligenti ovviamente per poter insieme provocare un'onda d'urto che interessi in modo particolare Questa grave situazione dell'occupazione che stenta a sbocciare E comunque questo sarebbe un po' l'inizio L'inizio perché con questo convegno vogliamo davvero realizzare qualcosa di positivo, di grande Se così si può dire, proprio dal titolo come emerge Costruiamo, vogliamo costruire una città che deve cambiare in ogni caso E se ci mettiamo assieme, riflettiamo assieme e condividiamo idee forti Sono convinto che questo potrà accadere E quale potrebbe essere un'idea da mettere subito in campo per dare la possibilità a quello dei quali hanno perduto il lavoro di riacquistarlo, di sopravvivere? Credo che una possibilità appunto e a tema anche in una delle relazioni sia quella del microcredito che potrà anche dar vita ad uno sportello, così chiamiamolo comunque in ogni caso un contesto vitale dove i ragazzi aiutati da persone già avanti nelle competenze possono trovare idee e di conseguenza stimoli nuovi Ma si tratta di una goccia in un oceano? È vero, ma è sempre una goccia Una goccia che comunque in un oceano che sicuramente ha bisogno di essere spinto Io sono convinto che anche se la massa d'acqua che può dare una goccia è minima, se non addirittura quasi nulla però è sempre qualcosa e sono convinto che da questa goccia probabilmente potranno scaturire almeno profeticamente potranno scaturire tante altre possibilità Però i lavoratori servono fatti concreti, immediati? E lo so, questo credo che sia difficile evidentemente Però intanto il fatto che ci si incontri che ci si confronti credo che questo sia già un fatto Da questo fatto certamente ne usciranno io ne sono convinto fatti concreti Perlomeno sicuramente daremo la possibilità di poter orientare in una certa direzione tutte quelle potenzialità che ovviamente nel caso contrario potrebbero andare deviate Al via la raccolta firme per una petizione che chieda di aprire i cantieri dell'autostrada Gela, Ragusa, Siracusa dalla città del Golfo Questa è l'iniziativa da parte di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale Oggi dalle 17 sarà allestito un gazebo in piazza Umberto I Una vergogna infinita ossia la precaria raccolta dei rifiuti a Gela che in due anni ha prodotto debiti stratosferici alcuni anche ingesificati e fuori bilancio a fronte di una città che continua a rimanere sporca Se ne è parlato ieri sera ad Agorà il rotocalcolo settimanale ideato e condotto da Franco Gallo se ne è occupato con diversi ospiti in studio Vediamo il sunto del dibattito televisivo in questo nostro servizio Gelesi incivili to cure o più verosimilmente servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che non decolla perché è strutturata male per non essere cattivi da chi l'ha partorita nel giugno del 2014 un po' l'uno e molto l'altro secondo noi i gelesi obiettivamente pulitissimi e rispettosi della loro città non sono o meglio parte di loro non lo sono di certo ma che ci siano gravissime responsabilità di vario genere a carico di chi ha concepito se in buona o mala fede non tocca a noi stabilirlo questo capitolato d'appalto non esiste altrettanto dubbio sommando i due fattori però si arriva alla amara conclusione dopo due anni esatti dalla partenza della raccolta differenziata dei rifiuti affidata alla ditta napoletana tecra la città continua ad essere sporca più o meno di prima francamente è una questione di lana caprina se non che chi governava prima ritiene che è più sporca ora dimenticando troppo in fretta lo scempio dei cumuli di spazzatura ad ogni angolo di strada di quei tempi e persino la pratica abberrante dell'utilizzo della calce viva a ricoprire lo schifo con grave rischio e inocumento sulla salute pubblica chi governa oggi invece non solo sostiene che la città è più pulita adesso ma che soprattutto il servizio costa i gelesi molto meno oggi che allora punti di vista si dirà e no perché ieri sera ad Agora che si è occupata della spinosa vicenda il vice sindaco Simone Siciliano presente in studio tra gli ospiti ha spiegato carte e documenti alla mano che non è così e non venendo smentito né dal presidente della commissione bilancio il consigliere comunale di Forza Italia Totò Scerra né dal capogruppo consigliere del PD Enzo Cirignotta ha spiegato con l'ausilio di grafici come il costo del servizio fosse schizzato soprattutto alla voce servizi aggiuntivi sotto la passata gestione amministrativa ed in particolare durante il periodo delle elezioni comunali e come invece si sia assestato verso il basso negli ultimi mesi con una percentuale di raccolta differenziata che non solo non è diminuita ma è anzi aumentata seppure di piccole entità percentuali sì ma la città rimane sporca e questo inutile arrampicarsi sugli specchi e sotto gli occhi di tutti e qui entrano in gioco i due fattori dai quali siamo partiti in questa analisi ossia i gelesi, sporcaccioni e poco rispettosi della propria città ed il modo come la Tecra effettua il suo servizio perché la stessa Tecra, come ha spiegato anche il suo consulente Filippo Passero presente in studio in altre città italiane dove opera è molto apprezzata e tiene puliti quei comuni ed allora perché mai a Gela non ci riesce? ed anche in questo caso entra in gioco il famigerato capitolato d'appalto firmato da chi in teoria e solo in teoria avrebbe dovuto tutelare i cittadini gelesi un po' come coloro stessa pasta e stessa coloritura politica che firmarono il contratto capestro con Caltacqua la traduzione è molto semplice anche se a qualcuno farà storcere il muso si sono venduti la città ed i suoi cittadini per accaparrarsi i meri interessi personali e Gela ed i poveri gelesi pagano come direbbe il principe della risata Antonio De Curtis a questa interessante puntata di Agora hanno anche partecipato il co-segretario del PD Fabio Collorà ed il segretario generale della CGL Ignazio Giudice i milioni di euro di debiti fuori bilancio sbarcati in questo periodo in consiglio comunale che sono figli di quei fantomatici servizi aggiuntivi ed alcune oscure manovre attorno a questo settore delicato come ad esempio la chiusura della discarica di timpazzo decisa dalla regione appena insediata l'attuale amministrazione comunale e che proprio oggi il TAR di Palermo ha deciso essere stata immotivata lanciano strali ulteriori su una questione per la quale a pagare in tutti i sensi sono sempre i cittadini gelesi e che prima o poi avrà il diritto di essere spiegata bene anche attraverso decisioni della magistratura che si spera mettano un punto fermo e definitivo su una storia sicuramente non edificante di questa martoriata città la replica di questa interessante puntata di Agora andrà in onda domani sera alle ore 21 su canale 10 e sarà visibile dalle prossime ore sui nostri indirizzi social Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata con nuovi argomenti e nuovi ospiti che riguardano Gela ed i gelesi Ancora un incontro tra il sindaco di Catania e i componenti del comitato per lo sviluppo dell'area gelese pro referendum Piazza Almerina liberi consorsi niscemi e consulta di niscemi i comitati hanno riferito che i disegni di legge governativi per l'adesione alla città metropolitana di Catania sono all'esame della prima commissione dell'assemblea regionale siciliana con la quale i comitati ed i sindaci delle città interessate hanno avuto una audizione proprio il giorno prima confidando nel fatto che presto si possa giungere all'ufficializzazione dell'adesione alla città metropolitana di Catania si è discusso sul disagio che vivono queste comunità rimaste in un limbo che ne impedisce la programmazione su questo punto il sindaco di Catania Enzo Bianco è stato molto chiaro bisogna fare in fretta ci saranno a breve ulteriori finanziamenti per la città metropolitana che ambisce a competere per importanza con le aree metropolitane di Bologna, Firenze ed altre ancora il primo sarà il patto per Catania ma ce ne saranno altri a cui possono accedere anche i comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina c'è tanto dunque da fare abbiamo, si legge in una nota risorse uniche in Italia come ad esempio tre siti UNESCO una grande tradizione agricola nelle due piane più grandi della Sicilia e tanto altro ancora bisogna ufficializzare al più presto questo passaggio uniti, si legge ancora nella nota diventeremo tutti più competitivi la vagina della cronaca giudiziaria tre arresti sono stati eseguiti nelle ultime ore a Gela dalla polizia il 44enne Orazio Monfrey deve scontare 4 anni e 6 mesi per lesioni gravi e minacce 4 anni di reclusione per il 42enne Sebastiano Mario Ragonesi l'accusa è di ricettazione il 30enne Francesco Giovane invece deve scontare un anno e 20 giorni per furto e ricettazione sempre la polizia ha denunciato un pensionato di 83 anni per negligenza nella detenzione delle armi auto in fiamme la scorsa notte in via Garibaldi a Gela si tratta di una Fiat Punto la macchina ferma da tempo e priva di copertura assicurativa appartiene ad una badante cinquantenne che vive nella zona cambiamo ancora una volta argomento si conclude oggi la due giorni di Life più Leopoldia sono tre le scuole selezionate e premiate tra quelle che hanno aderito in questi tre anni alle attività di informazione e sensibilizzazione del progetto Life più Leopoldia ogni scuola ha prodotto un video una presentazione in powerpoint oltre che cartelloni con foto e disegni che mirano ad aumentare la conoscenza della Leopoldia Gussonei e l'importanza di proteggere le nostre dune costiere le scuole premiate sono il primo comprensivo Albani Roccella diretto da Rosalba Marchiciana il liceo scientifico Elio Vittorini presieduto da Angela Tuccio e l'istituto comprensivo Leonardo Ciascia di Scoglitti della dirigente Giuseppina Spataro ad ogni istituto è stato consegnato un pannello del progetto con la speciale menzione mentre ad ogni studente di tutte le scuole partecipanti è stato consegnato un attestato ricordo oggi chiusura della due giorni alla chiesetta San Biagio Come si fa a stato guardare le coste? Bisogna pianificare tutto lo sviluppo l'economia questo ce l'impone anche l'Unione Europea con direttiva anche recente per cui dico è un percorso che viene da lontano quindi siamo noi comunque abbiamo il dovere di farlo perché attraverso questo sistema noi tuteliamo anche le future generazioni o altrimenti le future generazioni andranno via Molte volte si è considerato che il territorio di Gela è quello che è racchiuso dal perimetro urbano quando in realtà la sezione è molto più ampia ma il problema non è tanto direttamente all'amministrazione ma è un problema culturale un problema culturale che deve essere più volte ripetuto per prendere quella coscienza che ci consente a tutti quanti di salvaguardare il nostro patrimonio Valorizzare il territorio gelese è l'obiettivo che si è posto il convegno Ci sono grandi potenzialità grandissime la costa è qualcosa di sconosciuto penso per i gelesi e questo progetto ha puntato proprio su questo cercare di far conoscere le potenzialità agricole anche oltre a quelle turistiche quelle diciamo legate all'ambiente Bisogna soltanto valorizzarle Certamente L'ambiente della Piana di Gela con i siti natura di Regno Natura 2000 le riserve naturali è un ambiente straordinario sotto il profilo naturalistico per cui questi ambienti questi ecosistemi eccetera possono favorire l'economia provinciale l'economia territoriale eccetera sotto l'aspetto intanto culturale sotto l'aspetto della conoscenza scientifica e sotto l'aspetto turistico purtroppo sappiamo che Gela ha avuto un'evoluzione in questi decenni di carattere come dire industriale che indubbiamente ha portato posti di lavoro eccetera però da un punto di vista della salute pubblica da un punto di vista della tutela del territorio è stata deleteria e in edicola il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro referendum indigesti per qualcuno che ancora spera che Gela resti attaccata alla provincia di Caltanissetta i comitati non ci stanno e denunciano le prime manovre il giornale apre con questo argomento tornato di forte attualità dopo l'audizione di sindaci e comitati da parte della Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea Regionale Siciliana in prima pagina anche il richiamo del resoconto di Nello Lombardo sulle ultime due sedute consigliari in cui è venuto meno il numero legale al momento in cui sarebbe dovuto discutere dei debiti fuori bilancio con la Tecra Giulio Cordaro nella sua rubrica settimanale politicamente scorretto mette a nudo l'estrema leggerezza con cui vengono affrontate le gravi problematiche della città il giornale pubblica con ampio risalto la seconda parte dell'intervista di Lucrezia Ferro al GIP di Caltanissetta Lidio Conti col quale vengono affrontate questioni legate al territorio all'interno tre pagine con articoli e servizi di attualità e cultura infine lo sport con un ampio servizio sul gelacalcio di Orazio Accomando ed altri articoli sul ciclismo in ultima pagina come di consueto gli annunci economici gratuiti ci fermiamo linea la regia per la pubblicità eccoci seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi della conclusione del progetto Nice2PCU promosso da ShipLab Nella splendida Nella splendida cornice di Palazzo Mattina Gela si è conclusa oggi la competizione di idee concepita e promossa da ShipLab per incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel comprensorio gelese Nice2PCU ha raccolto e selezionato le migliori idee di business tra queste c'è la richiesta di aiuto si tratta di un'applicazione che permette di avere un contatto diretto con le forze dell'ordine l'idea è di Stefano Carrara e di Giuseppe Gambino Abbiamo sviluppato un'applicazione che permette di poter prendere e registrare un video per poterlo poi trasmettere direttamente tramite un canale diretto alle forze dell'ordine ma le forze dell'ordine sono quelle più vicine al sito da dove parte l'allarme grazie a un nostro software gestionale che unisce e geolocalizza i due siti in maniera molto più pratica come si fa? Basta scaricare gratuitamente l'applicazione sul proprio smartphone e poi con due semplicità c'è azionare il tutto e poi ci penserà direttamente l'applicazione facendo un video naturalmente possiamo allora sostanzialmente dire che potremmo vedere il crimine quasi in diretta praticamente sì e questo noi l'abbiamo chiamato l'SS 2.0 l'evento di Cip Lab ha rappresentato un'occasione imperdibile sia per gli start-upper che hanno presentato la propria idea di business ad un pubblico di potenziali investitori sia per gli imprenditori che vogliono sostenere progetti vincenti è stato un bellissimo evento grande partecipazione di imprese di interessati grande partecipazione anche di start-upper che sono uniti da tutta la Sicilia quindi sì Gela si propone proprio come un epicentro dell'innovazione grazie anche a Cip Lab che cerchiamo di trasferire ovviamente tutta la nostra conoscenza il nostro voler fare al territorio ma in un momento così difficile che sta vivendo Gela in merito alla disoccupazione dilagante Cip Lab come si propone sul territorio? Cip Lab si propone come un aiuto per fare imprese fare imprese da sé con quelle che si chiamano le start-up ma non sono altro che veramente delle imprese imprese anche 2.0 che però comunque si muovono in un mercato in un contesto globale l'amministrazione è pronta ed è vicina a tutte le società che associazioni che vogliono investire sul territorio soprattutto sulla giovane venditoria e sull'innovazione seguiamo Cip Lab da tempo come seguiamo altre associazioni non si fa assistenzialismo e questa è la questione differenziale e quindi vogliamo investire su queste società anche premiando le idee innovative Si terrà giovedì 12 maggio prossimo alle 19 presso i locali del Museo Archeologico di Gela la presentazione del romanzo di Vera Ambra Piume e baciatemi la guancia ardente porteranno il saluto alla città natale di Salvatore Damaggio le autorità cittadine ed i presidenti delle associazioni Rotary Club Fidapa Lions Club del Golfo Chivanis Proloco Archeo Club Lega Navale Piume baciatemi la guancia ardente è un romanzo storico e biografico liberamente ispirato alla vita e alle eroiche gesta di Salvatore Damaggio tenente bersagliere e mitragliere gelese protagonista in discorso della grande guerra cominciano domani per concludersi domenica 8 maggio a Gela i festeggiamenti per San Giuseppe promossi dal comitato e dai padri agostiniani alle 18 è prevista l'apertura della festa con suono festoso di campane e spari di mortai alle 18 e 15 si trarrà la recita della Rosario e litanie di San Giuseppe e alle 19 la celebrazione eucaristica in suffraggio dei benefattori defunti e adesso apriamo la pagina dello spettacolo appuntamento questa sera alle 21 e 30 al teatro antitolo di Macchitella Emanuele Gianmusso Guglielmo Greco e Lori Ardore porteranno in scena Attenti a Quei Due vi proponiamo una gag realizzata proprio dai due attori e stasera Attenti a Quei Due ore 21 e 30 Guglielmo Greco la commedia il contenuto dopo di una canara passata qualcosa forse il contenuto il contenuto è la storia di due amici scrittori o quantomeno pseudo tali che si sentono scrittori che campano attraverso qualche articolo che scrivono su un giornale su riviste su quello che trovano per poter mandare avanti o per campare diciamo così ma questi non riescono né a pagare l'affitto né a pagare il macellaio né a pagare il salumiere nemmeno di pagare la loro badante che viene ogni tanto tre volte a settimana per fare le pulizie di casa insomma una situazione equivoca molto molto equivoca molto triste ma lo sai che sta fine a fare domande molto comica perché poi dalla tragedia si passa alla comicità tragedia si sa che si ride con le disgrazie degli altri no? c'è la gente abituata a ridere con gli altri a voglia e poi che dire e dire che noi come abbiamo detto qualche giorno fa non ci assumiamo la responsabilità di tutto quello che può succedere scena perché può accadere di tutto attenzione perché il testo ci lascia anche liberi di improvvisare parecchio di coinvolgere qualcuno del pubblico e poi abbiamo una stupenda rumena una stupenda rumena che è Lori Ardore che non è qui presente che non facciamo il nome è Lori Ardore diciamo che la ciliegina sulla torta la torta siamo io Emanuele e lei ho la ciliegiona che è un verso un verso guarda che ciliegiona e chi sono gli artisti che saranno in scena allora uno è Emanuele Gianmusso Guglielmo Greco e Lori Ardore a stasera a stasera ore 21.30 i biglietti ancora ci sono potete prenotare allo 09.33 82.27.07 abbiamo anche le prenotazioni in diretta sabato 30 si ci diverte al Cineteatro Antitoto salutiamo salutiamo ciao stasera stasera e sabato 7 maggio sempre al Cineteatro Antitoto di Macchitella alle 21 sarà portato in scena dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Gela allo spettacolo Noi Donne ma soprattutto Madri la rappresentazione mette assieme diverse opere celebri del panorama letterario all'interno di una cornice attuale e vicina ai fenomeni e alle dinamiche della società moderna l'appuntamento chiude la rassegna Teatro 2015-2016 promossa dal Piccolo Teatro Città di Gela si darà domani a Macchitella il tredicesimo Memorial di ciclismo Salvatore Zuppardo la partenza è prevista alle 9 saranno presenti numerosi ciclisti provenienti da tutta la Sicilia la manifestazione è promossa dall'associazione Zuppardo in collaborazione con il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana e con il patrocino gratuito del Comune di Gela le categorie in gara sono debuttanti i veterani 1 e 2 gentlemen 1 e 2 super gentlemen A e B cadetti junior e senior 1 e 2 vi ricordiamo l'appuntamento domani a Macchitella con inizio previsto per le 9 abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito vi auguriamo un buon weekend grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti